bene buonasera è un piacere tornare a torino anche l'anno scorso ero qua per la metamorfosi quest'anno appunto il tema mi è altrettanto caro che è appunto la morte o meglio direi i morti su questo ho lavorato parecchio negli ultimi anni pubblicando appunto un libro dedicato di cui vi parlerò stasera in parte pubblicato da Garzanti dedicato al mio compagno che è morto all'inizio del 2020 si chiamava Nicolà Nicolás scritto e vi dirò che cosa è questo libro che cosa insomma io intendo per letteratura rispetto proprio agli assenti e il titolo dell'intervento è come quando i pipistrelli è una citazione da Omero dall'odissea dall'undicesimo dell'odissea dove Odisseo cioè Ulisse scende insomma si avvicina ai morti in una e le anime appunto dei morti si affollano come pipistrelli in realtà la citazione non è proprio dall'undicesimo scusate mi corrego ma dal ventiquattresimo dell'odissea cioè proprio dal libro conclusivo quando le anime dei proci che sono stati sterminati finiscono nel mondo nel mondo dei morti appunto lasciatemi però cominciare con una citazione che trovo molto pertinente di un autore austriaco diciamo anche se era di nascita bulgaro Elias Canetti Elias Canetti ha scritto molto contro la morte il tema è variamente declinato ha lasciato moltissime riflessioni sulla fine della vita vedendo nella morte la più grande ingiustizia che si possa recare all'essere umano questa diciamo protesta questa polemica lui l'ha soprattutto espressa riguardo alla sparizione della adoratissima madre allora vi leggo un breve brano che prendo da un libro che è stato ricostruito a tavolino dagli editor recentemente che si intitola appunto il libro contro la morte che è uscito da delphi in realtà in tedesco non è contro ma è uber cioè a proposito di esattamente cinque anni fa lui scrive il 15 giugno 1942 è morta mia madre da quel giorno la terra si è rivoltata come un guanto per me come fosse accaduto ieri ho davvero potuto vivere cinque anni senza che che lei ne sapesse niente voglio riprendermela dalla bara dove si anche allentare ogni singola vite con le labbra lo so che è morta lo so che è decomposta ma non lo accetterò mai voglio farla tornare in vita dove ritrovo le sue parti il più è ancora nei miei fratelli fratelli e in me ma questo non basta voglio ritrovare ogni persona che l'ha conosciuta voglio riavere tutte le parole che lei ha pronunciato dovrò posare il piede dove lo ha posato lei odorare le piante che ha odorato lei i discendenti di quei fiori cui lei ha accostato le sue vigorose narici voglio ricomporre gli specchi che di lei un tempo hanno riflettuto l'immagine voglio conoscere ogni sillaba che potrebbe aver pronunciato in qualsiasi lingua dove sono le sue ombre dov'è la sua collera io le presto il mio respiro lei camminerà con le mie gambe dove stanno i morti dove respirano i morti il canetti è finito queste sono domande che pongo io dove possiamo ancora incontrarli e parlare con loro questo è il tema del mio intervento qualcuno risponderà nei nostri cuori nelle nostre memorie nei nostri corpi che quando loro erano vivi ne hanno assorbito i gesti la vita oppure preso ancora prima di nascere la sostanza genetica qualcun altro dirà nei cimiteri nell'urna delle ceneri che si tiene su un mobile di casa qualcun altro ancora dirà in cielo in un al di là ma io insisto solo lì non c'è altro dove non c'è un l'abitazione dei resti il metaforico cielo o l'interiorità dei sopravvissuti non c'è per i morti una realtà e io rispondo sì c'è un altro dove c'è un al di qua c'è una realtà e questa si chiama letteratura la letteratura fa quello che fa un essere umano che abbia perduto la persona più cara la più amata la rappresenta e rappresentandola la mantiene nel mondo la rappresenta con la parola che è l'opposto del silenzio della sparizione la letteratura ricongiunge i dispersi e i disperati in un unico scambio di voci in un unificante scambio di voci omero che ho già ricordato nell'undicesimo dell'odissea usa il verbo a mei bo mai chissà un po di greco sa che vuol dire scambiarsi proprio per indicare il dialogo che odisseo e gli spiriti dell'erebo svolgono c'è anche un'altra bellissima espressione per indicare lo scambio il dialogo tra i vivi e morti e la prendo da virgilio nel sesto delle neide e neanche lui va nel regno dei morti a incontrare suo padre e virgilio usa l'espressione ac vice che è un ablativo di vicis che vuol dire scambio appunto sermonum con questo scambio di discorsi cioè la conversazione che è usata subito dopo che ne ha incontrato il cognato deifobo l'ombra del cognato deifobo ecco come vedete io con il vocabolo morti non mi riferisco unicamente a personaggi che siano stati vivi vivi realmente mi riferisco anche ai personaggi inventati loro sono come i morti che amiamo per me non c'è differenza tra un personaggio inventato e un morto anche un morto è inventato perché sta nell'immaginazione una vita ricordata ricordata è una vita comunque immaginata parimenti una vita immaginata o immaginaria è una vita ricordata la vita di un morto odisseo enea anna carienina orlando beatrice laura julien sorel madame bovary eccetera 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 sono tutti morti sono morti che tornano dunque quando noi entriamo nell'immaginazione entriamo nella morte come odisseo nell'undicesimo dell'odissea come nea nel sesto delle neide o come dante nei cento canti della divina commedia questi personaggi cioè odisseo enea il dante personaggio della commedia con il loro specialissimo privilegio di visitare l'oltretomba non fanno che simboleggiare una funzione di tutta la letteratura che è quella di riportare i morti dall'esilio di abolire la distanza del silenzio la morte io la concepisco solo così come spazio di un incontro come lo spazio del ricongiungimento o per dirla con un'altra parola di virgilio come spazio della pietas cioè dell'amore forse ricorderete che ne ha accompagnato dalla sibilla nel suo viaggio oltremonda non oltremondano perché in realtà l'oltretomba di virgilio è in questo mondo ci si arriva proprio a piedi nel suo viaggio insomma infero entra nel mondo dei morti al fine principale di incontrare l'amato padre anchise la pietas che questo amore di figlio gli dà il coraggio per intraprendere questa straordinaria spedizione ovviamente con l'assistenza degli dèi il vocabolo pietas compare due volte in bocca alla sibilla e una in bocca allo stesso anchise e sentite che bella questa citazione al verso 688 del sesto libro delle neide vicit iter durum pietas l'amore ha vinto voglio tradurre quell'iter durum come l'ha tradotto dante nel paradiso citandolo con un'allusione un po' coperta in un canto di cacciaguida il duro locale ancora anchise dice quello che i vivi e i morti si aspettano gli uni dagli altri datur ora tu eri nate tua et non leggo in metrica et così capite meglio le parole et notas audire et reddere voces cioè è concesso datur vedere il tuo volto o figlio sentire e restituire le note parole sono momenti altissimi della nostra letteratura questi certo resta l'immaterialità dei morti e nea vuole abbracciare il padre ma l'abbraccio non riesce terco ad equilago in metrica terco natus ibi collodare bracchia chircum ter frustra comprensa manuse fuggiti mago parle vibus ventis volucrique simillima somno tre volte cercò di buttargli le braccia al collo tre volte la forma si sottrasse alla presa pari ai venti leggeri e molto simile al rapido sogno ecco virgilio quello che virgilio dice in tre versi omerola che è il modello di virgilio l'ha già detto in 18 versi questo è una bella un bel esempio della sinteticità di virgilio grande maestro di brevitas le stesse cose diciamo le troviamo appunto nell'undicesimo dell'odissea quando odisseo incontra la madre anticlea e anche lui prova da abbracciarla ma anche nel suo caso già nel suo caso l'abbraccio non riesce vi leggo l'italiano non mio ma di calze della calzecchionesti e io volevo in cuore l'andavo agitando stringere l'anima della madre mia morta e mi slanciai tre volte il cuore mi obbligava a abbracciarla tre volte dalle mie mani tra l'altro il greco è identico al latino ripete esattamente la struttura del greco cioè ter 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 all'inizio del verso e così in in greco abbiamo tris tris tre volte tre volte tre volte dalle mie mani all'ombra simile o al sogno volò via strazio acuto mi scese giù in fondo e a lei rivolto parole fugaci dicevo madre mia perché fuggi mentre voglio abbracciarti che anche nell'ade buttandoci al collo le braccia tutti e due ci saziamo di gelido pianto e a odissio questo punto viene un sospetto che tutto questa sia una farsa un'apparizione fallace uno scherzo di persefone no la divinità dei morti o questo è un fantasma la parola greca è eidolon da cui viene il nostro idolo no o è questo un fantasma che la lucente persefone manda perché io soffra e si inghiozzi di più e la madre gli dice no guarda che poi l'anima no no è tutto vero quello che vedi soltanto che immateriale perché l'anima si è sciolta dal corpo e quando il corpo è bruciato non c'è più modo di abbracciare insomma dice una cosa ovvia per noi ma evidentemente per i contemporanei di omero questa doveva suonare come una teoria abbastanza scientifica no ecco non è un inganno non è un inganno ma a questo punto molto più concreta della forma che appare molto più concreta è la parola il dialogo che sta avvenendo l'incontro verbale lo scambio linguistico quindi lo spazio della morte come spazio dello scambio di parole non puoi abbracciare ma puoi parlare puoi dialogare quindi generalizzando potremmo dire che i vivi noi vivi tutti siamo figli che cercano il padre o la madre come come neano come come odisseo e che i morti tutti sono padri e madri che aspettano la visita dei figli in verità ovviamente non ci sono limiti né di sesso né di parentela l'amore non è necessariamente determinato la pietas dalla consanguinità o dalla discendenza mi piace però pensare a questa idea archetipica del figlio che cerca il padre del padre che aspetta il figlio perché tolta insomma dal contesto politico dinastico dell'antica roma resta pur sempre un archetipo bellissimo no l'archetipo di cosa dell'amore che ricongiunge vivi e morti nello spazio della letteratura solo un morto può vivere due volte e questa seconda occasione non avviene per caso o spontaneamente a meno che uno non creda nei fantasmi insomma ma non è quello che sto raccontando anche se un bel discorso sui fantasmi ci starebbe tutto però invece voglio parlare di quelle cose concretissime che sono proprio i libri la scrittura quindi questa seconda occasione noi dobbiamo volerla dobbiamo affrontare l'iter durum come lo chiama virgilio o meglio anchise per conto di virgilio oppure navigare per lungo tratto come ha fatto odisseo cioè nella morte non si entra per caso da vivi ci vuole un'arte che ci consenta di superare la soglia che divide noi dai morti solo l'arte l'arte delle parole da presenza all'assenza forma all'inconcepibile e concretezza all'irrealizzabile la letteratura antica ammette anche il caso di una restituzione fisica del morto tutti conoscerete un pochino il mito di orfeo orfeo addirittura ottiene la restituzione della moglie e come la ottiene con le parole grazie alla sua abilità di poeta la perde perché vi ricorderete si gira quando non deve farlo poi è stato dato il divieto di voltarsi prima di aver raggiunto la soglia della luce e lui per tracotanza disobbedienza irresponsabilità curiosità insicurezza insomma le interpretazioni sono moltissime no c'è anche quella che dice che vuole che la stessa euridice ce lo abbia strattonato e lo abbia costretto a voltarsi insomma comunque si è andata lui si gira e la perde ma non la perde per incapacità linguistica la perde per una di queste ragioni quindi orfeo è lì proprio un esempio stupendo di forza della parola una forza tale che la distanza con con i morti è abolita e però io mi dico anche l'ho pensato proprio per questa occasione dico l'errore di orfeo è stupendo è la cosa più giusta che potesse fare perché quell'errore restituisce la moglie euridice all'invocazione inesauribile beh a un certo punto morirà pure lui e la ritroverà però finché è vivo finché è vivo noi stiamo parlando di noi vivi che cerchiamo i morti e cerchiamo di parlare con loro finché è vivo euridice rimarrà invocata quindi meno male che si è voltato ed è proprio quello che fa la letteratura la letteratura è invocazione inesauribile nostalgia senza fine quindi che cosa sono i personaggi dei romanzi gli amati e le amate delle poesie se non degli invocati insomma riassumo brevemente prima di passare alla seconda parte di questo mio intervento che non è tanto su noi lettori che vediamo attraverso i libri lo spazio della comunicazione tra vivi e morti nella seconda parte invece parlerò di me proprio come scrittore che ha tentato da scrittore di entrare nella morte vi è chiaro che per me il termine morte non indica lo stato di chi ha cessato di vivere non è lo stato di un morto è invece questo spazio vivo quest'ombra per usare una parola proprio virgiliana in cui coloro che ancora vivono e coloro che più non vivono si ritrovano si riconoscono si riparlano si riassomigliano anche se non si sono mai incontrati prima anche se noi Madame Bovary non l'abbiamo mai vista per le strade di Milano o di Torino dove siamo adesso dico Milano perché da lì vengo sono venuto oggi la morte è l'ombra in cui la vita conclusa rivive riacquistando forma visibile e linguaggio articolato vi ricordate le parole di Virgilio? tu eri guardare audire ascoltare reddere voces restituire le parole è una bellissima definizione di letteratura ed è la definizione con cui Anchise descrive l'incontro l'Anchise morto descrive l'incontro con il figlio vivo sarebbe bello poterci soffermare un pochino avevo preso anche qualche appunto sul nostro ruolo proprio fattivo di lettori noi che interpretando i libri diamo vita ai personaggi perché uno può dire sì il lavoro l'ha fatto tutto lo scrittore alla fine il lavoro l'ha fatto Omero il lavoro l'ha fatto Virgilio il lavoro l'ha fatto Dante e via dicendo in realtà è molto lavoro lo dobbiamo fare noi perché senza la lettura questi personaggi non arrivano alla vita restano così nella potenza nella potenzialità ma su questo sarebbe bello soffermarsi ma come vi ho detto forse il tempo manca voglio invece raccontarvi un pochino della mia esperienza queste sono anche osservazioni quelle che ho appena fatto che nascono davvero uno da una grandissima fede nella lettura e nella scrittura e nella letteratura in tutte le sue forme ovviamente no? che si sia lettori comuni docenti universitari maestri delle elementari lettori privati librai bibliotecari basta avere un libro in mano che questo mondo rivive no? basta avere un po' di libri in casa basta entrare in una libreria e già entriamo nell'ombra del dialogo no? già cominciamo a tueri a udire a reddere voces già ritroviamo il padre già ritroviamo la madre già noi figli veniamo ritrovati però voglio entrare proprio nella cronaca diciamo tra la metà di gennaio e la metà di apri no? dovrei cambiare la data perché poi la data si è spostata comunque soprattutto nei primi mesi del 2020 quindi erano i mesi del covid in realtà per me non erano i mesi del covid ma erano i primi mesi senza Nicolà che era morto appunto all'inizio di gennaio e che si è risparmiato tutto lo strazio del covid io mi sono impegnato senza che me lo aspettassi a comporre ogni giorno qualche poesia due o tre poesie al giorno brevi brevissime alcune non si possono neanche chiamare poesie comunque erano tentativi di poesia non è quasi mai capitato che saltassi un giorno e se questo capitava cadevo nello sconforto nella disperazione e però con un po' di pazienza recuperavo la fiducia che il giorno dopo una o due poesie sarebbero sarebbero arrivate e riconducevo il fallimento di quella giornata a qualche causa esterna e non alla mia inadeguatezza o la mia mancanza di impegno ecco con quei versi io mi rivolgevo a Nicolà con lui avevo vissuto vent'anni era strano non averlo in casa era veramente assurdo e queste poesie erano rivolte a lui erano rivolte in realtà al vuoto erano rivolte all'aria e servivano almeno a una cosa se non proprio a farlo ritornare anche se io speravo tanto che il fantasma sarebbe comparso tenevano almeno lontani i ricordi io so che tutti avete perso qualcuno quindi non ho assolutamente la presunzione di raccontarvi nulla che non sia condivisibile in qualche maniera ma neanche di fare della mia esperienza appunto qualcosa di eccezionale e di particolarmente doloroso anche se lo è stato io però non so se qualcuno di voi mi approverà o si riconoscerà in quello che sto per dire non volevo assolutamente collocare la vita di Nicolà nel passato cioè io volevo continuare a credere che lui continuasse a esserci da morto questo non era facile da credere perché non sono credente non vado in chiesa non credo in un al di là e quindi la presenza dell'assenza era molto difficile da concettualizzare era molto difficile da concettualizzare però ci ho provato quindi tenevo a bada i ricordi con queste poesie erano quello che ci dicevamo adesso quel poco che riuscivamo a dirci adesso e quindi volevo capire questo vuoto studiarlo amarlo e non riempirlo con fantasie del passato il vuoto si presentava con la sua faccia sconosciuta e chiedeva ospitalità il vuoto era adesso il mio presente il mio compagno la mia casa la mia famiglia il mio amore il vuoto era Nicolà e il vuoto portava parole quando dico vuoto parlo in modo assolutamente letterale non avevo mai guardato con tanta curiosità con tanta disponibilità con tanta trepidazione con tanta passione lo spazio che mi separava dalle cose della casa aspettavo un'apparizione quale che fosse cercavo di dare un'altra possibilità all'aldiquà non ho visto niente ma posso dire che ho contemplato il niente e scrivendo gli ho dato importanza di pieno proibendomi di credere la mancanza assenza e di fare del silenzio un equivalente del mutismo non ho mai pensato che la vita fosse felice per definizione la felicità va inventata e io adesso la inventavo col niente e quanto si sentiva quel niente c'era parlava impossibile pensare che non fosse comunque qualcosa un'altra forma di Nicolà con la mia parola lo provocavo gli parlavo con la mia parola ascoltavo non sapevo ancora che stavo facendo quello che fanno appunto Odisseo e Nea nell'aldilà cioè vice sermonum certo esprimevo anche il mio dolore e la fatica le poesie che uscivano erano anche dolore e fatica a un certo punto però passando i giorni mi diventò chiaro che le parole che scrivevo le parole di me sopravvissuto erano in verità le parole del morto il morto parlava attraverso me mi dava appuntamento il bisogno insopprimibile di poesia di composizione che mi prendeva ogni mattina anzi mi sorprendeva ogni mattina era un incontro ve ne leggo qualcuna tra le primissime se avete voglia piccole timide ma eravamo ancora nuovi a questa forma di comunicazione che poi è andata avanti molto ho scritto poesie per quasi due anni le ultime sono studiate hanno le rime sono intenzionali qui l'intenzione non era in me ma in qualcosa di esterno che mi visitava parlatemi parole ovunque siate beate voi che non avete morti che non soffrite vorrei diventare te sentire anch'io l'inesistenza com'è sei diventato parola cosa che dico cosa che non esiste non devo pensare che non ti troverò domani devo stare qui dove eri dove non rimani in camera ho un altare tra il letto e la parete io lì ti aspetto e lì tu appari oh senza corpo senza anima l'altare stesso è d'aria l'evento è il vuoto l'attesa che non porta cosa né corpo né parola la stessa attesa sempre la stessa inesistenza tuo solo sangue adesso mio calice invisibile mia messa quest'altra è un po' più lunga ma di poco che indica proprio quello stato che a volte mi prendeva di essere prossimo a una rivelazione lo so ci sono quasi non so però se sia qualunque cosa sia davanti a me o alle spalle o se debba girarmi all'improvviso per vedere o alzare gli occhi soltanto devo avere pazienza evitare la finestra evitare la via o lo so sono vicino veramente se il cuore mi fa tanto male un attimo ancora un fiato la prossima poesia grazie 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 ancora due piccole prove ne ho centinaia non vi preoccupate vi ho risparmiato la maggioranza delle composizioni sai già ogni volta quello che sto per dirti vedi prima di me qualunque cosa è inutile che ti parli setaccio setaccio te ne accorgi e poi questa che è una delle mie preferite oggi ti ho visto non sei lontano non stai nascosto io sono in te tu sei il posto beh applausi scusate che abbiamo un sorso io nello stesso periodo delle poesie ho cercato di dare a Nicolà una presenza in un altro modo e l'ho fatto componendo un racconto sulla sua fine che poi è diventato un libro di quasi 300 pagine una specie di romanzo e scrivendo volevo sia stare ancora con lui ed è stata un'esperienza bellissima quindi continuare ad averlo vicino ma non soltanto questo io volevo che il mondo sapesse di lui quando ho cominciato a scrivere credevo che sarebbe bastato l'ultimo periodo della sua vita a dare un'immagine di lui avrebbe comunque fornito ai lettori un esempio di intelligenza e di forza che potesse affascinarli e anche aiutarli e nel finire non c'è l'essenza di tutto ce lo insegna bene Dante e io l'avevo constatato giorno per giorno le qualità individuali non si esaltano nel massimo grado quando non si vede più domani però passando i mesi mi sono reso conto che il racconto della fine scusate la prima baciata tra conto e racconto del tutto involontaria mi sono reso conto che narrare solo la fine non era giusto il mondo non doveva semplicemente sapere come era finita la vita di Nicolà il mondo doveva sapere come aveva vissuto e quindi dovevo reinventare tutto reinventare ricordi cioè quello anche che avevo scritto nel corso di vari mesi andava tutto rifatto perché non doveva esserci una cronaca e basta ci doveva essere lo spazio della pietas ci doveva essere l'umbra vedete perché ci sarebbe il latino è più comodo dire umbra e pietas che non fare lunghi discopi bisognava tueri bisognava audire bisognava reddere voces Nicolà insomma doveva riattuarsi e questo mi portava a interpretare non bastava quello che ricordavo anzi quello che ricordavo era del tutto insufficiente bisognava interpretare e quindi liberare l'immagine da foschie di qualunque mistificazione e cercare la vera realtà sotto la presunta realtà perché solo così io l'avrei incontrato di nuovo e così voi grazie al mio lavoro l'avreste incontrato dovevo sdoppiarmi dovevo sapere come credevo di sapere ma anche scoprire essere in un duplice presente quello del prima so che sto diventando un po' capzioso però vi prego di seguirmi perché tengo moltissimo a queste cose che valgono non solo per il racconto su Nicolà ma proprio secondo me sul modo in cui la letteratura cosiddetta autobiografica funziona sdoppiarmi tra un prima e un adesso il prima di quando sapevo e l'adesso della riscoperta dell'incontro dovevo riconfigurare il tempo della sua assenza nel tempo della sua vita quindi misi da parte il lavoro che avevo fatto e ricominciai da capo io non avevo aiuto da nessuno neanche dall'adorato canetti con il quale ho voluto giustamente aprire né da Isherwood né da Virginia Wolf né da Stendhal anzi quando mi interpellavo mi portavano completamente fuori strada mi facevano fare solo errori perché dovevo inventare tutto perché un Nicolà non c'era stato prima neanche quello vero mi bastava dovevo crearne uno quindi con la coscienza di entrare in un mistero e con la volontà di creare qualcosa di completamente nuovo mi diedi il compito di dire non semplicemente la morte di Nicolà ma la sua vita non come un uomo muore ma come vive fino al momento della morte si poteva che mezzi avevo non ne avevo dovevo fabbricarmeli occorreva solo capire una volta per tutte che la scrittura ecco quello che cerco di dirvi qualunque scrittura letteraria è una serie di istruzioni per la lettura quel che avrei scritto doveva indurre i lettori e le lettrici a vivere l'esperienza che la mia stessa scrittura per sua condizione non poteva incarnare di per sé voi dovevate dire quello che io non riuscivo a dire ma vi davo le indicazioni per farlo in realtà tutti i buoni libri io ho cercato di scrivere un buon libro e sono convinto di aver fatto un buon lavoro o almeno per quello che le mie forze erano in quel periodo tutti i buoni libri o comunque tutti quelli che hanno delle buone intenzioni non fanno altro che darci delle istruzioni che noi possiamo seguire o non seguire anzi quasi sempre non le seguiamo ed è giusto così perché nessun libro sarà mai lo stesso libro nelle mani anche solo di lettori affini nessun lettore nessuna lettrice è uguale all'altro nessun libro è lo stesso libro quindi mi imposi di rappresentare il corpo e l'anima di Nicolà non diversamente da un pittore che rappresenti un paesaggio cogliendo l'unità nella molteplicità qui dovrei dirvi troppe cose su cosa intendo io per ricordo e dovrei farvi una distinzione molto molto precisa ma pubblicherò prima o poi un libro anzi a fine novembre esce un mio libro su su queste cose anche e forse se avete voglia le troverete lì quello che invece voglio fare adesso prima anzi concludo un attimo queste riflessioni però vi voglio leggere un piccolo passo del Nicolà così avete anche un po' un'idea di quello che ho inteso fare io voglio dirvi soltanto questo per chiudere che anche un libro ispirato ai fatti più personali come questo avviene per la prima volta ecco dove sta per me l'essenza proprio del romanzesco ve l'ho detto alla fine ho scritto un romanzo non nell'inventare necessariamente storie mai sentite mai vissute prima ma nel far accadere sotto gli occhi dei lettori e delle lettrici la storia nel renderla una loro esperienza non una mia esperienza con qualunque tipo di vicenda in qualunque epoca che si tratti di madame bovary della lingua salvata del barone rampante le confessioni le memorie di adriano insomma io ho citato alcuni libri che amo il romanzesco è la meravigliosa illusione dell'accadere allora scrivere e vivere vengono a corrispondersi nessuno dei due essendo la ripetizione di alcunché tantomeno l'uno dell'altro allora la scrittura si rivela la condizione più vicina alla vita quella che anche quando la vita è trascorsa e perfino arrivata al suo termine ridà vita alla vita la scrittura è salute la scrittura nel senso della letteratura la letteratura è la salute dei morti e adesso se permettete perché credo che qualche minuto l'abbiamo vi leggerei una pagina molto avanti nel racconto il racconto non segue in ordine cronologico o meglio sì però ci sono salti indietro anticipazioni tutto questo è molto calcolato perché solo così a un certo punto ho capito che riuscivo a creare dei punti di fuga che avrebbero avuto la capacità di espandere il libro ben oltre le 300 pagine che è insomma come si fa a tenere la vita di un uomo in così poco spazio invece io volevo che questo libro desse alle lettrici ai lettori l'impressione di essere davvero davanti a una grande vita come quella di ciascuno di noi anche se finisce prematuramente e quindi la distruzione della cronologia lineare questo ha avuto sicuramente la capacità di fare di creare piani di simultaneità che assomigliano molto di più a quelli del sogno che non a quelli della vita reale che di fatto mente moltissimo inventandosi sequenze alfabetiche dalla A alla Z ma niente va dalla A alla Z mai ci sono sempre tantissime simultaneità che purtroppo noi non possiamo neanche troppo sfruttare per fortuna abbiamo il sonno almeno lì qualcosa di più libero e di più creativo riesce a succedere non pensate che per questo il libro sia sperimentale è un libro invece molto leggibile e molto affabile come piace a me scrivere io ho come ideali la chiarezza e la semplicità anzi diciamolo in latino la claritas e la simplicitas e a quelli mi attengo scrupolosamente qui però sentivo una responsabilità grandissima che non avevo sentito per un altro nessun altro libro che avessi scritto rappresentare un uomo che non può più rappresentare se stesso e lasciare che e far sì che voi lo amiate e lo ammiriate e anche questo era difficile da fare perché non dovevo neanche cadere nella geografia nell'elogio insomma un sacco di divieti mi dovevo dare però anche un sacco di libertà nuove è un libro che mi ha cambiato e che mi ha insegnato molto sulla scrittura e sul rapporto proprio tra vita e tra noi vivi e i morti e mi ha fatto capire quanto è grande la vita così grande che ci stanno tutti proprio anche quelli che non si vedono siamo a pagina 261 Nicolà il personaggio tra poco morirà però nel racconto c'è come una specie di sospensione di questa fine a un certo punto il lettore si trova una pagina in attesa oltre alle cronologie scombussolate ci sono anche questi inserti improvvisi o riflessivi un po' aoristici che portano nel discorso altro Nicolà aveva molto la musica e quindi vi leggo una pagina sulla musica quindi la scena della morte è preceduta da questa pagina nel suo canone pianistico il compositore più importante era Debussy la prima arabesque e Claire de Lune erano i suoi brani preferiti in assoluto anteposti di molto a qualunque pagina di Mozart di Beethoven o di Chopin dovrei dire semplicemente i suoi brani per lui infatti sebbene fossero tra le pagine di musica più frequentate al mondo arabesque e Claire de Lune equivalevano a una proprietà personale e non erano meno importanti e intimi di quanto possono essere certi amici ne pronunciava in modo tutto particolare perfino i titoli anzitutto li pronunciava da nativo e già questo per me dava alle parole un'intonazione rara e preziosa come se proprio nel suono stesso dei titoli ricevessi distillata e condensata e così salva nella sostanza tutta la sua precedente vita francese che altrimenti nella nostra quotidianità dominata dall'utilizzo dell'italiano trappelava solo per qualche sperso bagliore anche le sue ultime parole sono state in italiano lo parlava e scriveva benissimo con disinvoltura con gusto perfino con pedanteria si vantava per esempio di pronunciare scandinavo a differenza della stragrande maggioranza dei miei connazionali e dava a insipido a ragione il senso generale di insapore mentre molti lo credono sinonimo di non salato e se la sua lingua madre con quel radicatissimo ictus protosillabico lo portava a imprimere una modulazione straniera alla frase italiana l'effetto non tradiva necessariamente la sua provenienza neanche quando parlava il tedesco lo spagnolo il portoghese o l'inglese aveva l'accento francese bastava però il modo in cui pronunciava arabesque o clair de lune a ricordarmi che quest'uomo che amavo e che mi amava veniva dalla lingua di Molière e di Proust allora mi prendeva l'affascinante sensazione di trovarmi ancora davanti a uno sconosciuto arabesque clair de lune chi era costui che mi aveva portato la fortuna quelle espressioni proponevano due immagini antitetiche il ghirigoro e il candore immateriale il definito e il vago ma al tempo stesso le combinavano armoniosamente lo sconosciuto che le rappresentava era entrambe definizione e vaghezza complicazione semplicità intreccio e trasparenza concretezza e immaterialità qui salto un pezzo ma Nicolà lui che cosa trovava in quelle pagine di musica che le sue mani di impulso si mettevano a cercare non appena si fossero posate sulla tastiera prima di compiere qualunque altro gesto non diversamente da uno che per abitudine si raschi la gola prima di iniziare a parlare non me l'ha mai spiegato non mi ha mai neppure spiegato perché ponesse Debussy in cima alla lista delle sue predilezioni gli piaceva lo trovava bello bellissimo si inchinava a lui quando lo suonava piegava in avanti il corpo immergeva tutto se stesso nel flusso delle note come non faceva per l'esecuzione di nessun'altra musica Debussy rappresentava un suo modo d'essere e questo che cos'era? freschezza agilità giocosità il Debussy di Nicolà non era quello dei misteri autunnali o dell'inclinazione all'abisso come quello di Pellea e Melisande o di certi lavori tardi il Debussy di Nicolà che includeva pure alcune canzoni e il Doctor Gratus a Parnassum rappresentava facilità dolcezza ed eleganza una gioia smaterializzata infantile fiabesca affrancata da qualunque pretesa di necessità senza retorica naturale così era lui frammentario evasivo eppure coerente amico del vento che scompone il fiore ma al tempo stesso lo costringe a raccogliersi un sospendersi di petali che trattengono il fantasma della corolla prima della dispersione ultima la musica la musica di Debussy era naturale come l'aria già era contenuta nell'aria una volta in Engadina all'inizio della nostra storia arrivando a un grande prato dopo una faticosissima salita mi disse ascolta io non sentivo che il mio fiatone non sentivo niente lui fermo davanti al paesaggio mi ripetè ascolta l'aria grazie